ciao ragazzi bentornati sul canale oggi andiamo a vedere ada o meglio la criptovaluta di cardano nei confronti del bitcoin perché si è verificato una cosa molto interessante che poi si sta continuando a muovere anche in questi momenti quindi è sicuramente interessante andarla a vedere perché in questo canale abbiamo trattato spesso fin dall'inizio i triangoli no quindi facciamo molte analisi utilizzando il pattern del triangolo come pattern per individuare quelle zone in cui il prezzo si andava a comprimere dove non c'era un vero trend non c'erano massimi minimi crescenti o decrescenti che siano comunque il prezzo si andava quindi a stringere a chiudere dentro quella sorta di imbuto e quindi poi fuori uscivo da una parte sostanzialmente a volte usciva dall'alto nella maggior parte dei casi a volte usciva al ribasso ma una cosa che non abbiamo mai trattato fino ad ora era come andare ad individuare i target di quel triangolo ovvero è vero che il prezzo magari prende schizza esce ma dove arriva io dove lo devo aspettare devo stare lì h24 davanti al grafico e appena fa una canna linea rossa vendere tutto oppure posso pianificare il trade ecco oggi andremo a vedere proprio questo quindi andremo a vedere come pianificare un trade come andare a mettere un target una volta individuato un triangolo a mercato quindi iniziamo subito molto semplicemente andando ad individuare il triangolo questo è un triangolo tirato nel time frame h4 un triangolo molto esteso il prezzo molte volte è stato rinchiuso qui dentro e allora come andiamo ad individuare una volta che il prezzo effettivamente come vediamo qui è uscito e sta continuando a salire ma qual è il target di questo triangolo il target di questo triangolo è molto semplice lo andiamo ad individuare facendo una proiezione del 100% del movimento che aveva iniziato il triangolo ovvero questo qua dal massimo al minimo da qui siamo partiti quindi prendiamo il massimo andiamo a raggiungere il minimo vediamo che sono 830 punti cioè qui c'è scritto meno 700 meno 830 punti ok allora il target sarà dalla rottura più 830 punti quindi la rottura avvenuta qui io da qui vado a cercare 830 punti ci metto una linea così sono sicuro di non sbagliarmi quindi vediamo che siamo già a un bel punto cioè ci stiamo già avvicinando altro target e oltre al 100 per cento possiamo fare il 50 per cento interessante sicuramente 100 per cento è quello che un po tutti puntano però a rigore di logica il 50 per cento è comunque già un target molto profittevole e che con più facilità si raggiunge avevamo detto che era 830 quindi sarà 415 se la matematica non mi illude a questo punto 415 e come potete vedere il prezzo fuoriuscito dal triangolo ha subito raggiunto il primo target cioè il 50 per cento del movimento che andandolo a misurare in percentuale comunque avremo segnato un più 17 e mezzo per cento quindi niente male ha sentito proprio come resistenza cioè vedete che la prima volta con l'ombra l'ha anche sfondato ma successivamente proprio funto da resistenza il prezzo poi rompe e parte e probabilmente punterà al nostro 100 per cento del movimento ma cosa interessante che sia verificata che in h4 è un po difficile da vedere però già gli occhi allenati qua incominciano ad individuare qualcosa che non torna tra virgolette infatti si è verificato un ulteriore triangolo ovvero il prezzo esce dal primo triangolo raggiunge il target del 50 per cento e qui forma un nuovo triangolo dalla quale successivamente esce perché poi qui vediamo che il prezzo è uscito ora intanto tracciamo il triangolo così è più chiaro per tutti quindi il nostro triangolo da questo triangolo poi il prezzo fuoriesce e punta al 100 per cento del primo triangolo ma stessa identica cosa potremmo fare con questo triangolo quindi movimento di questo secondo triangolino che si è formato dopo vediamo che sono 425 punti 430 circa quindi abbiamo i 430 punti dalla rottura della neckline quindi dal breakout e siamo circa qui andiamo a mettere nuovamente e ovviamente il 50 per cento che sarebbero i quattro i 215 ok per comodità ho colorato di blu i target del triangolino più piccolo e lascio di rosso i target invece del triangolo più grande cosa andiamo a notare quindi abbiamo individuato il nostro triangolo analisi molto semplice si nota praticamente a colpo d'occhio il fatto che il prezzo si va a restringere all'interno di un triangolo alla rottura abbiamo calcolato il cento per cento del movimento del triangolo abbiamo messo il target il 50 per cento è già stato raggiunto qui nel raggiungere il 50 per cento il prezzo si è chiuso in un nuovo triangolo a questo punto il prezzo esce da questo triangolo il 50 per cento di questo movimento è già stato toccato punta al 100 per cento e il cento per cento di questo movimento dista veramente pochi punti cioè 113 120 satoshi il 4 per cento praticamente e raggiungiamo il cento per cento del target del triangolo più grande cosa sicuramente molto interessante è notare anche come effettivamente questi livelli di target guardate come il cento per cento di questo triangolino chiamiamo triangolino corrisponde sostanzialmente a questa zona di supporto questa zona di supporto dove qui il prezzo si era fermato dopo la discesa aveva fatto un piccolo rally per poi essere rotta guardate come corrisponde perfettamente con il nostro target del 100 per cento del triangolino e come anche ad esempio il target del 50 per cento del triangolo questo qui più grosso noi ovviamente adesso perché già qui vediamo che il prezzo ovviamente raggiungendoci raggiungendo questo target e appunto ha avuto funzioni di resistenza ma nel momento in cui il prezzo usciva già noi potevamo calcolare questo target senza sapere che però avrebbe svolto così bene funzione di resistenza ma comunque nel passato se guardiamo era già un livello sentito automaticamente il prezzo già qui noi avremmo potuto mettere questo livello semplicemente perché sapevamo che precedentemente aveva già svolto funzioni di supporto e poi resistenza per spingere il prezzo ancora più al ribasso ed ora corrisponde con il nostro target del 50 per cento del triangolo più grosso del triangolo maggiore questo corrisponde questo livello di supporto corrisponde al 100 per cento del triangolo più piccolino quindi vedete come alla fine tra virgolette i pezzi del puzzle si vanno tutti ad incastrare questa è analisi tecnica non è magia semplicemente è l'ordine del movimento del prezzo e del mercato queste coincidenze che danno maggiore rilievo alla nostra analisi maggiori conferme e quindi oggi abbiamo visto come semplicemente con un'analisi basata sull'individuazione di triangoli questo magari era un pochettino più difficile ma ragazzi basta scendere magari un time frame come h1 e già in h1 si vede molto meglio che qui si era formato un triangolo e a questo punto calcolare i target impostare quindi i livelli di uscita ad esempio 50 per cento del capitale qui 50 per cento del capitale qui e siamo a posto non bisogna stare h24 sui grafici a diventare matti si mette il punto di ingresso al mercato con un ordine pendente sulla rottura quindi si fa un ordine pendente semplicemente qui quando rompe compra e poi vendi 50 per cento quando arriva qui e vendi 50 per cento quando arriva qui in maniera molto semplice ovviamente non dimentichiamoci mai visto che ci siamo di inserire anche gli stop loss o perlomeno di individuare quelli che sono gli stop loss e in questo caso lo stop loss sarebbe stato ovviamente qua sotto quindi non alla rottura della della trend line rialzista questa qui ma proprio sotto i minimi toccati da questo triangolo quindi noi entravamo qui lo stop loss lo andiamo a mettere qui sotto ve lo disegno così avremmo avuto stop loss primo target secondo target allo stesso modo noi entravamo qui lo stop loss lo saremmo andato a mettere qui non è un più tranquillo lo saremmo andato a mettere oddio lo stop loss l'avremmo messo qua non qua giù perché è abbastanza ridicolo lo stop loss si va a cercare a mettere il più stretto possibile qui abbiamo messo qua giù perché il triangolo è è molto stretto quindi non avevamo questo come punto di riferimento in questo caso invece lo mettiamo sotto i minimi precedenti la rottura poi è venuta qui e andiamo a prenderci i target come vedete il target del 50 per cento è quello che viene quasi sempre raggiunto cioè ora ho portato questo esempio ma andate a fare questa analisi andate di individuare triangoli e andate a tracciare il target del 50 e del 100 vedete che il 50 per cento è molto facilmente raggiungibile quindi è una buona norma tenerle considerazione perché intanto mettere in pari o perlomeno poi casomai spostare lo stop loss sul target magari o di entrato o addirittura del 50 per cento quindi inseguire il trade e lasciarlo aperto può essere un'altra strategia operativa ma casomai di queste tecniche di gestione come appunto può essere il trailing stop ne parleremo in futuro per oggi è tutto io vi saluto e vi auguro come sempre buon trading